Nettenza urbana nell'agrigentino e contenziosi. Concluso il tavolo tecnico sui trasferimenti del personale dal lato all'SRR e sul rispetto degli adempimenti economici relativi allo stesso personale. Ascoltiamo in proposito il segretario provinciale della Confael di Agrigento, Maglio Cardella. È stata una vera e propria battaglia di posizioni. Ieri abbiamo registrato per la prima volta, dopo quattro riunioni, la presenza dell'SRR. Si è perso del tempo, ovviamente, tempo utile per i lavoratori, per la soluzione delle loro problematiche. La prima tra tutte è il transito dei lavoratori dagli ato liquidazione all'SRR per il quale ha dato ragione alla Confael il tavolo dell'ispettorato del lavoro e dell'ufficio provinciale del lavoro. E seppur questa ragione, testimonia dalla bontà dell'iniziativa sin qui assunta dal nostro sindacato, praticamente l'SRR, in sostanza, seppur dietro l'orientamento assunto dall'ispettorato del lavoro e dall'ufficio provinciale del lavoro, che concorda in pieno che questo transito deve avvenire senza licenziamento, senza soluzione di continuità, con passaggio diretto ed immediato ai sensi dell'articolo 2.112 del Codice Civile, eppure la società tira dritto, sbagliando al nostro avviso e alterando il delicato equilibrio che tuttora vie tra i lavoratori che continuano a prestare la loro attività, seppur alcuni di essi prendono il salario altri non riescono ancora a prenderlo e quindi la prossima settimana abbiamo già proclamato lo stato di agitazione anticipando le eventuali decisioni sullo sciopero in ogni cantiere che attueremo sin dalla prossima settimana dopo averlo concordato con un'assemblea generale dei lavoratori. A questo segnale di indisponibilità va applicata una doverosa riflessione, soprattutto delle istituzioni, non è possibile che l'orientamento della CONFAEL che riteniamo vada nella direzione del diritto, del rispetto del contratto di lavoro sia contrastato in una maniera a dir poco incomprensibile.